Oggi è stata una giornata importante, sono stata relatrice in aula della relazione annuale delle attività per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Relazione che è stata approvata all'unanimità relativa alle attività del 2018, testimonianza del grande lavoro che la Regione sta facendo su questo tema sempre più sentito. Nello scorso anno oltre 1.500 donne hanno rivolto le segnalazioni a centri antiviolenza o altri servizi sul territorio e di queste 2.373 sono state prese in carico, 280 in più rispetto al 2017. Di fatto una donna ogni 300 in Veneto si è rivolta ad un centro antiviolenza e una ogni 700 è stata presa in carico. Per questo la Regione sta svolgendo un ruolo molto importante sia aumentando le risorse a disposizione dei centri presenti nel territorio portandoli quest'anno 600.000 euro e un milione e mezzo verrà destinato attraverso fondi statali proprio a sostenere i centri esistenti e le nuove strutture che potranno essere aperte sul territorio pur tenendo conto che il Veneto ha una media di servizi presenti sul territorio regionale superiore a quello che è il minimo stabilito a livello statale. Ma un altro lavoro importante che si è fatto riguarda tutto il tema della formazione in particolar modo degli operatori dei servizi sociosanitari in primis dei pronti soccorso, gli operatori dei centri attiviolenza perché essi sono le prime sentinelle per poter individuare possibili problematiche nelle donne e purtroppo tante volte anche nei bambini.